salve oggi vi insegno a usare l'utensile per le penne per le nostre penne e io mi sono scaricata dalla biblioteca questo disegno che avevo fatto tempo fa vado su questa icona qua e vado nella palette livelli spunto tolgo la spunta a questo livello perché a me interessa una cosa scrivere e mentre invece quello sotto era per tagliare e fatto questo devo andarmi a settare la penna la lama con il taglio la la scrittura quindi io non usando le penne della silhouette ma bensì le mie devo impostare una mia opzione quindi cosa faccio vado con quest'icona qua mi clicco e metto un nome a questo a questa opzione per ricordarmi poi in futuro se mi serve per altre cose poi setto la penna logicamente non deve essere la lama ma devo cercare la penna e quindi vado nel minuto indina e scelgo la penna per bossetto poi mi devo scegliere la velocità e lo spessore allora essendo la prima volta bisogna fare diverse prove è sempre meglio avere un spessore basso perché non rischiamo di rovinare la punta ma non si vediamo che qualcosa non va bene alzare di poco però e la velocità io ho messo 7 come spessore e velocità 9 9 10 comunque non ha importanza e questa mi viene salvata automaticamente nella mia nelle mie opzioni bene ora andiamo nella silhouette adesso mi dice che la silhouette non è collegata quindi dobbiamo spostarci nell'altra e poi la colleghiamo eccoci qua questo è l'utensile questo è il bastoncino chi diceva la stina e questa è la penna ora dobbiamo mettere il porto utensile nella dove c'è la lama la togliamo inseriamo mi raccomando le tre scaranture in alto mettiamo con la monopolina davanti in modo da regolarci mettiamo prendiamo il nostro sticchino stecca o sembra quella del gelato la mettiamo sotto e dobbiamo mettere nella nostra penna vedete dobbiamo mettere la nostra penna in modo che la punta tocchi questo serve per prendere le misure perché non vado troppo fondo altrimenti rischiamo di rovinare la penna e rischiamo di rovinare magari il tappetino stringiamo io ho appoggiato la punta della penna al nostro bastoncino vedete lo stretto togliamo il bastoncino ecco ora prendiamo la nostra il nostro cartoncino o quello che volete mettere io disegno su un cartoncino potete disegnare anche su un foglio non ha importanza mi raccomando attaccatelo bene io uso questo della silhouette come potete usare anche un regalo importante che venga bene cioè che sia ben aderita la carta o il cartoncino al tappeto ora la metto nella macchina lo posiziono e facciamo partire dal software la silhouette ecco qua che è partita lasciamo finire lei sta lavorando ora non sentite il rumore perché ho tolto l'audio perché sto registrando la mia voce per commentare ecco qui ecco qui ha finito tolgo per farvelo vedere vedete ora riposiziono il tappeto perché io ora lo voglio tagliare quindi dobbiamo togliere il nostro porto utensile e inserire la lama e risettare dal software per la lama e non più per la penna bossetto quindi adesso vi faccio vedere riposiziono la lama eccoci qua ora dobbiamo riattivare vedete che prima vi ricordate abbiamo tolto la spunta questa di sotto adesso togliamo quella di sopra e rispuntiamo quella di sotto poi togliamo mettiamo il cartone da il taglio perché altrimenti non va bene che rimanga ancora la penna ora lo trovo eccolo qui e fatto questo andiamo a vedere nelle nostre impostazioni se tutto va bene vediamo vedete ecco dobbiamo posizionare la lama nel 4 e poi diamo l'invio alla silhouette ora mi dice che non è collegata perché l'avevo spenta ora andiamo nell'altra postazione e partiamo con il taglio eccoci nella postazione del taglio rimetto la lama vedete lo metto nel 3 nel 4 scusate blocco e faccio partire la macchina vedete la macchina è partita mi taglia io spero di essere stata chiara e all'altra postazione del taglio tolgo la mia il mio tappetino il cartoncino e ora vi faccio vedere vedete stacco ed ecco qua il cartone tagliato e la macchina ha finito io spero di essere stata chiara e alla prossima